Nell'occuparci di fenomeni paranormali siamo giunti sulle sponde del cosiddetto spiritismo, cioè di quella attività che presuppone l'esistenza di entità disincarnate e la possibilità di mettersi in contatto con queste. La maggior parte delle persone credono che ci siano proprio degli spiriti, delle entità all'origine dei cosiddetti fenomeni paranormali, il loro concorso nelle vicende degli uomini a produrre quella che è fenomenologia parapsichica o extrasensoriale. Questo è quanto pensano i cultori dello spiritismo. Abbiamo visto che c'è un rischio molto grosso nell'avvicinarsi allo spiritismo, a detta degli stessi medium, e il rischio più grosso è quello che noi definiamo il rischio spirituale. Cioè noi potremmo essere in contatto con delle entità che si spacciano per entità di luce, per angeli benefici, e invece essere in contatto con degli spiriti bugiari, degli spiriti falsi, che spacciandosi proprio per entità di luce ci propinano un sacco di mezze verità, e le mezze verità sono sempre delle intere menzogne, magari parlando anche di cose spirituali. Per esempio abbiamo visto nella precedente puntata come molti di questi spiriti amino consigliare coloro che vengono a consultare i medium di leggere la Bibbia, di leggere il Vangelo, parlano di figure, per esempio, del cristianesimo come gli apostoli, come Gesù Cristo stesso. E noi abbiamo messo alla prova questi spiriti e abbiamo visto che si contraddicono, perché è vero che gli spiriti ci dicono di leggere la Bibbia, noi abbiamo letto la Bibbia e abbiamo scoperto una cosa molto interessante. Per esempio, in questo testo che leggeremo adesso, Levitico, capitolo 20, versetto 6, è detto quanto segue. Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Come sarebbe a dire? Gli spiriti ci consigliano di leggere la Bibbia e la Bibbia ci dice non contaminatevi consultando gli spiriti. Quindi l'attività medianica o spiritica per la Bibbia è una contaminazione. Vediamo un altro testo ancora più chiaro, Deuteronomio capitolo 18, versetti da 9 a 12. Dio dice a Mosè che sta per entrare nella terra di Canaan, attenzione, lì dove tu entrerai ci sono già delle popolazioni pagane che fanno delle cose che tu non devi imitare, devi evitare invece di farle. Quali sono queste cose da evitare? E Dio lo dice chiaramente, non ci sia in mezzo a te chi esercita la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti. E quindi aggiunge addirittura né negromante, cioè colui che parla con i morti. Quindi è vero che gli spiriti ci dicono di leggere la Bibbia in una seduta spiritica, ma la Bibbia ci dice di non andare in una seduta spiritica perché gli spiriti non possono essere consultati. Quindi per persone intelligenti come voi è chiaro ormai che c'è una contraddizione. Mente la Bibbia o mentono gli spiriti? Ripeto, gli spiriti dicono di leggere la Bibbia, la Bibbia dice di non consultare gli spiriti. Per quale motivo la Bibbia non vuole che consultiamo gli spiriti? Perché la maggior parte degli spiriti, delle entità, si presentano come nostri cari defunti che sono tornati a noi per consolarci, per aiutarci a crescere nella vita spirituale, insomma. Invece leggendo la Bibbia scopriamo che non è possibile consultare un defunto per i motivi che adesso vedremo esaminando proprio alcuni testi biblici. Mi perdonerete se in questa trasmissione i testi biblici sono molti, ma è l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per confrontarci con le entità. Ripeto, sono loro che ci hanno consigliato di aprire la Bibbia, noi l'abbiamo aperta e troviamo delle cose non troppo piacevoli nei loro confronti. Per esempio questo testo che si trova in Genesi capitolo 2 versetto 16 e versetto 17 dice, ora ognuno di voi prenderà il Genesi come gli par meglio, in senso allegorico, in senso spirituale, in senso letterale, non ha importanza. Quello che conta è che il testo ci voglia insegnare qualcosa di fondamentale. Questo testo dice l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento. Adamo e Devo sono stati appena creati, i Dio li ha messi in un giardino e dice ai due mangiate pure del frutto dell'albero, di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male non ne mangiate, perché nel giorno che voi ne mangerete per certo morirete. Ora l'albero della conoscenza del bene e del male non ha bisogno di essere spiegato, non ci interessa se è un albero fisico, un albero concreto o solamente un simbolo. Sappiamo che la conoscenza del bene e del male presuppone che l'uomo sappia distinguere il bene e il male, assumersi la responsabilità di fare l'uno ed evitare l'altro, quindi in poche parole l'uomo che conosce il bene e il male in qualche modo è come Dio. Allora il testo ci dice che l'uomo non può essere Dio perché è una creatura, Dio ha creato l'uomo e l'uomo è una creatura di Dio. Mangiare dell'albero o meglio del frutto, della conoscenza del bene e del male significa in qualche modo dire a Dio faccio per conto mio, faccio quello che voglio senza il tuo consiglio. È come guidare una Ferrari e mettere un olio che ci pare profumato ma che non è quello consigliato dai costruttori. Dopo un po' la Ferrari si ingolfa, è quello che è successo all'uomo, dopo un po' si è ingolfato. Ecco noi abbiamo qui un testo che sembra entrare in contraddizione perché sappiamo dalla Bibbia che Adamo e Deva mangiarono del frutto ma non morirono. Eppure il testo dice nel giorno che tu mangerai quel frutto morirai. È evidente che Dio non intendeva la morte fisica perché, ripeto, nel momento in cui i nostri progenitori hanno mangiato quel frutto non sono morti, hanno continuato a vivere, purtroppo in maniera triste ma hanno continuato a vivere. La morte era quindi una morte spirituale. Nel giorno in cui voi deciderete di staccarvi da Dio, dentro di voi morirà lo spirito. Voi sarete destinati a morire spiritualmente. Ebbene, leggiamo un altro testo. Quando Adamo e Deva commettono peccato, l'autore sacro constata e scrive che l'Eterno disse che l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. Ecco, l'uomo che vuole essere Dio. Guardiamo, dice il testo, che egli non stenda la sua mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e vita è viva in perpetuo. Questo secondo testo ci dice che dopo aver peccato l'uomo non muore fisicamente, ma è Dio proibisce all'uomo di prendere anche il frutto dell'albero della vita che gli avrebbe permesso di vivere in eterno e quindi, come conseguenza, dalla lettura di questi testi scopriamo che Dio toglie all'uomo la vita immortale, spirituale. L'uomo praticamente non può più essere immortale, l'uomo perde l'immortalità. Nel giorno in cui tu mangerai quel frutto perderai l'immortalità e il testo successivo ci dice che Dio mandò via dall'Eden l'uomo, dal giardino e in qualche modo inizia così l'esperienza dell'uomo che vive nel peccato, con il peccato. All'entrata del giardino Dio pone dei cherubini, degli angeli, per custodire la via all'albero della vita. L'uomo continua a vivere fisicamente, ma ha perso la vita spirituale, quella immortale. L'uomo non può più avere accesso al giardino. Questo è quello che ci dice il Genesi. L'uomo era stato creato immortale, ha perso questa opportunità e l'uomo ora è costretto a morire. La Bibbia ci dice che l'uomo non è immortale. Quindi allora quando un defunto si presenta in una seduta spiritica sta, se menziona la Bibbia, distorcendo la stessa Bibbia, perché la Bibbia dice che non può essere, non ci possono essere persone immortali e quindi non ci possono essere morti, viventi, che vengono a consultare noi. Per quale motivo? Scuserete questo bisticcio di parole, ma adesso nei testi che leggeremo sarà molto più chiaro e vedrete che l'esperienza ci dimostra esattamente quello che la Bibbia invece aveva preannunciato da millenni. Ecco, un testo tratto dal libro di Ezechiele, capitolo 18, versetto 4, è chiarissimo. Ci dice che l'anima che pecca è quella che morirà. Quindi allora può morire anche l'anima. Questo è quello che ci dice la Bibbia. E noi sappiamo che l'aggettivo immortale nella Bibbia si trova una sola volta e si trova nel libro, o meglio nella lettera a Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 17, dove è detto, ora al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio. L'aggettivo immortale si trova solo qui nella Bibbia. Invece il sostantivo immortalità si trova cinque volte nella Sacra Scrittura e il testo più importante lo troviamo ancora nella lettera a Timoteo, prima Timoteo, capitolo 6, versetto 16, dove è detto, parlando di Dio, che egli è il re dei re, signore dei signori, il quale solo possiede l'immortalità. La Bibbia ci dice, e se noi abbiamo studiato grammatica non possiamo sfuggire da queste linee predisposte, il testo ci dice che solamente Dio possiede l'immortalità. Quindi vuol dire che nessun altro al di fuori di Dio possiede l'immortalità. L'uomo non è immortale. Anche i teologi affermano ciò che afferma la Bibbia, e cioè che sulle sue pagine non si trova nulla che sostenga l'immortalità dell'anima. Per esempio, in un'opera approvata da Pio IX, il teologo Henri Martin dice che la dottrina filosofica dell'immortalità dell'anima non si trova in nessun posto nella Bibbia. Stesse parole, più o meno, le dice un teologo di stampo protestante, Holshausen, che afferma che la Bibbia non conosce l'espressione immortalità dell'anima e non sa niente di questo dogma moderno. È un dogma moderno. Un'altra teologa dei nostri giorni, Adriana Zarri, cattolica, dice che la Bibbia non parla della immortalità dell'anima, che effettivamente è un concetto greco, bensì della resurrezione. Ecco, allora adesso vedremo alcuni, almeno un testo fondamentale nella Sacra Scrittura, quello di Romani, capitolo 6, versetto 16, che ci dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi la vita eterna, l'immortalità, è data soltanto da Cristo perché il peccato porta alla morte. Quindi se noi vogliamo riacquistare l'immortalità dobbiamo credere in Cristo. Non è connaturata nella nostra natura, nella nostra essenza, non siamo immortali di natura. Abbiamo perso l'immortalità solo credendo in Cristo la riacquistiamo. Infatti si riacquista soltanto ciò che si perde. Un altro testo molto bello è Giovanni capitolo 3, versetto 16, dove è detto che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figliuolo. Solo in Cristo la vita può essere eterna. In tutte le altre situazioni no, non siamo immortali. Ma in effetti, come dice Rolando Ipuri, che senso ha il sacrificio di Cristo? Perché questo immane sacrificio se noi siamo immortali di natura? Se non rischiassimo invece di perdere la vita eterna? Per quale motivo Cristo è venuto a morire? Dice Rolando Ipuri, un teologo protestante, la dottrina pagana dell'immortalità dell'anima è la negazione su tutte le linee dei dogmi fondamentali della Chiesa cristiana, non solamente della resurrezione, ma soprattutto della creazione. Perché egli afferma un'anima immortale non è creata. Quindi la Bibbia non può parlare di creazione dell'uomo e dell'anima dell'uomo se questa è immortale, sarebbe in contraddizione con se stessa. Ma la Bibbia non è in contraddizione con se stessa. Sono i teologi o i filosofi che hanno inventato la teoria dell'immortalità dell'anima che sono in contraddizione con la Bibbia. Ebbene, anche se parliamo di antropologia, in questo caso di antropologia biblica, e partiamo invece da un ambito profano, laico, dalla psichiatria. Per esempio lo psicologo Viktor Frankl dice una cosa molto interessante. Non si può trascurare il fatto che la persona è spirituale. Infatti, ora perdonate questo bisticcio di termini, non ho una persona, io non ho una persona, ma io sono la mia persona. E quindi, parlando dell'io al posto di, usiamo la parola io al posto della parola persona, lo stesso Viktor Frankl aggiunge non posso propriamente dire il mio io. Infatti, io sono io e non ho un io. Quando io dico il mio io è turbato, sto dicendo qualcosa di non scientifico. Io sono il mio io. Ecco, l'essere umano, per il fatto di essere individuato, è anche centrato in una persona, intorno a una persona. Praticamente è integrato. Corpo, spirito, anima sono un tutt'uno nell'essere umano. Non può esistere un'entità senza l'altra. Lo vedremo meglio nella prossima trasmissione. Ora, applichiamo quanto abbiamo scoperto dalle analisi dello psicologo Viktor Frankl, alla Bibbia queste stesse scoperte, parlando di un versetto di Genesi. Il capitolo 2, versetto 17, ci presenta questa dichiarazione inequivocabile. Nel momento in cui il Dio crea l'uomo è detto che l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quindi, praticamente, l'uomo vive per il semplice fatto che l'alito di Dio incontra il corpo, la polvere della terra, e la polvere della terra si anima, diventa animata. Quando la Bibbia parla di anima, non parla di una entità che abbiamo dentro di noi. Quando la Bibbia parla di anima, parla del corpo che diventa animato, dell'essere umano in totale, in toto, corpo, mente, spirito, anima, tutto. L'uomo è un tutto indivisibile. E quindi, con un altro testo, vedremo che cosa succede quando l'uomo muore. Dovrebbe avvenire esattamente il contrario. Con questo testo abbiamo scoperto che Dio soffia il suo alito, il ruach, come dice il testo biblico, il principio vitale e il corpo si anima, diventa animato. Egli è un'anima. Come diceva Viktor Frankl, non ha un'anima, è un'anima vivente. Nel testo di Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 9, ci dice che quando l'uomo muore, lo spirito, il principio vitale, ritorna a Dio che lo ha dato, come abbiamo letto nel versetto precedente, e il corpo che cosa fa? Ritorna alla polvere della terra, ritorna a polvere, perché polvere è. Quindi, come vedete, leggendo il testo biblico del Genesi e anche questo testo di Ecclesiaste, abbiamo quanto segue, ora lo riassumiamo in questi termini, leggendo quello che scrive Adelio Pellegrini nel suo libro Il Popolo di Dio e l'Anticristo. Leggendo il testo di Genesi abbiamo che l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, prima, poi gli soffiò nelle narici il ruach, che è l'alito vitale, e l'uomo divenne nefesh, cioè anima vivente. Questo è quanto detto, ripeto, nel primo versetto del Genesi. Nel secondo versetto che parla della morte dell'uomo, secondo Pellegrini, abbiamo questo processo. Se per processo inverso si togliesse il ruach, cioè il principio vitale che Dio ha dato alla polvere, allora non rimarrebbe nulla, non rimarrebbe l'anima, il nefesh, perché sparirebbe insieme al ruach, allo spirito. Insomma, in poche parole, conclude il Pellegrini, in questo senso si esprime l'autore del libro dell'Ecclesiaste. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato e la polvere alla terra. L'anima non c'è, perché l'incontro dello spirito con la polvere formavano l'essere vivente, l'essere animato. E per concludere citerò due esempi, per meglio comprendere questo passo teologico della Sacra Scrittura. Consideriamo una lampadina, ecco la lampadina, anche qui ne abbiamo tantissime intorno a noi, è il corpo, il soma, o bara, e invece a un certo punto la corrente elettrica che va a raggiungere, la lampadina che è il terminale di questo processo, la corrente elettrica è il ruach, lo spirito di Dio. Il Dio soffiò nelle narici il ruach e la polvere divenne animata. Noi con un piccolo gesto verso l'interruttore mandiamo la corrente elettrica, il ruach, al corpo di vetro, la lampadina, quindi al corpo dell'uomo e all'improvviso appare la luce, il nefesh. O meglio, in qualche modo è la lampadina che è nefesh, che è animata. Ma se noi togliamo la corrente elettrica, quindi riprendiamo il ruach, lo spirito di Dio, allora il corpo non può più brillare, si spegne. Ma la luce, una volta tolta l'elettricità, non vaga intorno a noi nella stanza. La luce scompare, ritornerà soltanto quando immettiamo di nuovo energia. O con un altro esempio ancora più chiaro, considerando un pianoforte e un pianista. Il pianoforte è il corpo, la polvere della terra e il pianista è il ruach, il principio vitale, lo spirito di Dio. Solamente quando il pianista, il ruach, incontra il pianoforte e il corpo si ha la musica, quella che noi possiamo chiamare anche anima. Ma se il pianista si stacca dal pianoforte, la musica non rimane sospesa nell'aria, non rimane da nessuna parte. Così è dell'anima. La Bibbia non parla mai di un'anima che sopravviva alla morte. Forse questo discorso vi sembrerà un po' strano, perché siamo stati abituati a pensare esattamente il contrario. Ma la Bibbia non parla mai di uomo immortale e di anima immortale. Vogliamo scoprirlo insieme la prossima trasmissione? A risentirci.